Benvenuti su Viral News. Nel video di oggi vi riveleremo ciò che è clamorosamente successo a questo concorrente durante una delle ultime puntate di Affari Tuoi. Prima di continuare con il video, iscriviti al canale e attiva la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e le ultime news. Massimiliano ed Erika, una coppia trentina, è stata protagonista di una delle ultime puntate di Affari Tuoi, famoso game show di Rai Uno. Purtroppo, all'inizio sembravano essere contagiati dalla sfortuna, perdendo subito i pacchi da 300 e 100 mila euro, ma durante la puntata, sono riusciti a recuperare grazie a scelte fortunate e un cambio pacco vantaggioso. La competizione procede su un filo di equilibrio, con offerte dal dottore che non li convincono pienamente, mantenendo l'incertezza sul pacco paracadute. Giunti agli ultimi tre pacchi, la situazione si fa critica, rimangono in gioco un pacco da 75 euro, uno da 5 mila e uno da 200 mila euro. Il dottore ha così proposto 35 mila euro, mettendo la coppia davanti a una difficile scelta data l'alta probabilità di finire quasi a mani vuote. Dopo una breve riflessione, decidono di accettare l'offerta di 35 mila euro, cercando di assicurarsi una somma significativa. Il gioco prosegue e si scopre che il pacco successivo valeva 5 mila euro, lasciando in gioco il pacco da 200 mila e quello da 75 euro. La scoperta finale è stata amarissima, la coppia aveva scelto il pacco da 200 mila euro, perdendo così l'opportunità di una vittoria clamorosamente ricca. Nonostante la vincita dei 35 mila euro, la delusione per non aver rifiutato e proseguito il gioco è stata ben visibile. Questa esperienza sottolinea l'essenza imprevedibile e spesso crudele dei giochi di fortuna, dove la vera gioia è spesso per chi osserva da casa. E tu cosa pensi della partita di Massimiliano? Faccelo sapere nei commenti, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i prossimi video sulle ultime notizie.